Ciao a tutti, sono Emy Winehouse e anch'io sento tiscali. Ah ah, uh uh, yeah! Un attimo che prendo la scaletta e... Ti sento in forma però, devi... Mi scaldare sta voce Davide. Mi scaldare. Bevo un po' di acqua... Di alcol devi bere. No, acqua che ho trovato sotto il letto, quindi credo sia peggio. Va bene, uguale. Ah ah, uh uh, yeah! E poi tutti insieme... Don't stop living! Io mi tiro fuori eh. Ah ah, uh uh, yeah! Anche detto cheerleader che picchiano i robot mentre portano una testa demorzata alla cintura. Però sono zombie eh. Ah, infatti non ti chiamano zombie? Eh sì. Sì, zombie! È vero, zombie robot! Zombie! Che ho detto robot! O robbi robot anche! No, come... Fa ciao, l'ha se ho detto robot! Che ho detto robot! Fatte una vera, perché non tesareggia così... Siamo super rapidi Quindi Sta cadendo la linea No Siete caduti tutti quanti per 2-3 secondi Comunque Aspetta, siamo tutti? Siamo tutti? Sì, sì Allora aspettiamo 3 secondi Proviamo a parlare un secondo, scusa Ma è possibile che abbiamo problemi di linea pure senza Reolo? Lo sento leggermente Tipo Robby Robbo, sì Magari l'influenza di Reolo ha Forse è rientrato a casa Ha aperto la porta Aspetta, la vita è se sente malissimo Ma che succede oggi? Oddio Robby Robbo è tornato Basta Non è che non funziona Sentite? No, malissimo Che sei glados Sembra più la linea che il microfono Sì, lo so A me la linea questa è Non ci posso fare niente Adesso bene Adesso bene Parla un po' Buongiorno, il mio nome è Robby Robbo Vabbè, non è fa meglio Va bene Riparto da bla 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 Però non smanacciare il microfono Perché si sente tipo avvitamenti di bulloni Sì Scusate Pensate che voi fate anche dell'attività fisica Io al massimo vado a mangiare qualcosa in frigo Quindi Ebbè, quella è attività fisica Sì Non è mentale Ah no Ieri una partitona a LOL Vincere Senti, vado a pisciare dopo questa qua Ieri notte Eh? Vacci mo Eh, ci sono da Ah, l'avevi detto dopo Dopo sta notizia del Che hai fatto? Ah ah Uh uh Yeah Quindi salti in realtà e salti nel gioco Nel gioco, va bene Fabio? Sì Ti sento lontano, ti sento lontano Perché ti allontani? Aspetta Più che altro mi è passato un treno sotto casa Ok, facciamo da quando inizio Aspettate un attimo che ritorno subito Sento lontano e bello Ritorno subito Sono dieci vagoni, tipo Che cacchio era? Ah ah Uh uh Yeah Pippa fa jogging Il suo lato B diventa un libro Che? È la notizia di libero Pippa fa jogging Il suo lato B diventa un libro Ma lo vengono nella sezione entai delle fumetterie? E poi non è che ci abbia sto Ma che diamine significa? È la sorella di Come cazzo? Kate Middleton Sì ma che diamine significa Che è il suo lato B diventa un libro Puoi sfogliarlo Sul fitness probabilmente Perché puoi sfogliarlo Nella serie prendi una fetta di culo E strappi una pagina Mi pare di dare un bellissimo gruppo su facebook Di quelli che dicevano Essere diventata regina Quando tipo la sorella Che cazzo era? Aspetta Mo mo li trovo Ok Intanto Pippa diventa campionessa di tuffi Non l'ho capito Ma che Non lo so C'è scritto così Ma chi li scrive questi articoli? Intanto C'è una cosa a casa sopra Tipo Cose sul principe Harry E poi punto Intanto Pippa diventa campionessa di tuffi E le ragazze in tuta? Eh tipo così Nessuno gli può dire che è una Pippa Ecco Mamma mia Cioè come si crede Soltanto pochi giorni fa La Middleton Nel Pirncipe Ma scrivono per me questi? Eh quasi Pippa sente che con lui può parlare di qualunque cosa Con una virgoletta aperta a Pippa Cioè le due virgolette del discorso diretto Aperta a Pippa E non chiusa mai Eh gente che ne sa Ma che gli schiesti tu è Fabio? Libero Non è che sono andato sul sitaccio Analfabeti.com Magari Riendirizza libero Mannaggia Mo cerco Analfabeti.com Ma non cerca Analfabeti.com Fai questi giochi Sì me ne dovevo trovare un ultimo E mi sono scorreato qua adesso Scusa Perché in prima pagina il libro c'ha Oslo caccia i complici Guarda il video del killer Che cazzo è un video trailer Come si fa ma che è? Comunque è vero C'è un sito www.analfabeti.com E chi lo legge Non lo so vedete È scritto male Quindi supponque Ah aspetta adesso voglio Ah sono dei troll È una burla Io credo sia russo Però non so se è russo Parole a casa Perché non so russo Forse è in russo E parole a casa Eccolo il video C'è davvero il video Ah ma è un post Caini devanzare Stop artweary textuale Ma cosa è quell'articolo La virgola sotto Cinci o ameni Ma che cacchio è? No non è russo È trollese Non so Beh fai la cosa automatica Di google no? Come si fa? Ah questa pagina è in rumeno Ah in rumeno Traduci Canin vendita La prima Aspetta perché se esce Un gioco bello Leggiamo questa Che c'entra questo? Niente Incazze d'incendio C'è pure dove? Dove? Sotto c'è Incazze d'incendio Non lo sento adotto Fuoco C'è sotto Ascensore Che bello Fammi tornar libero Per favore Stavo leggendo De pippa Ah ah Uh uh Yeah Bene Aspetta fammi pensare Al termine Eh vedi Che bello Che bello Che è sto gioco Che vuoi dire? Una cosa che tu fai nel tempo Diciamo che Ripeti nel tempo È iterativa Una consuetudine Via Ok Beh si ci accontentiamo di quello che ci ha Insomma Si si sente di merda Ti prego Si malissimo No io non ho sentito male No io non ho sentito male Sì ma tu stai in un altro posto Senti Come senti Parlate un po' finché non Meglio adesso metto Prova il microfono Io a te ti sento meglio Ok perfetto Ripartiamo da ti posso assicurare Bla 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 Oddio Che è che ti stava dicendo? Davide Forse è un po' vecchiotta Perché penso che non sia di questa settimana Ma di quella prima addirittura Ed è la famosa Ok Non mi viene la parola Aspetta rifaccio Ma però il fatto è che Sui titoloni C'è sempre Una sorta di Di Che cazzo Se volete vi do a Liban direttamente Ti giuro Ciao Ti 3 secondi Sentite Sì Sì Un secondo Che Sono un coglione Eh vabbè No 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 Quanti secondi Ho salvato la lista dei giochi Che figo Che serio L'ho scritto e l'ho salvato I giochi saranno Spanderfals Sì Ma per forza Perché se esce un gioco vero Parliamo 5 secondi E poi è finito Sì e mi sta cadendo la sedia Quindi Stare un minuto Ciccio bello Nella terra dei chi Beh Sarò un altro gioco Cado solo due copie Di cui uno Ecco c'è Davide Giulia Passione Mi Wainhouse Un attimo che mi sono scordato i vostri nomi Che cazzo Quando leggerai Le prossime puntate di Autoleague of Legends Capirai Ma io non le leggo Tutto il lavoro mio per niente Cazzo Perché? Perché non lo leggo Perché Davide non legge Davide non legge niente Nemmeno la roba sua Si rilegge Figurate se legge la tua Nemmeno all'alfabeti Punto com Mi si è imparlato il computer No Mi si è imparlato nel senso che non esce per faccia del recorder Eccolo qua Ma tra un po' Appaiono i bottoni Speriamo Ma è finito? Fine? Sì sì Tu non hai salvato Si è verificato un errore in X-Space Hai registrato? Io sì Ti lovo Ti lovo Ti lovo Eravamo morti Ah ah Uh uh yeah